Sono molto molto contento che possiamo fare questa intervista perché mi sa che è giusto che come dicevi tu devo salutare tutti perché per me sono stati veramente sei anni bellissimi anche se come tu hai detto magari qualche anno magari difficile però fa parte del calcio però diciamo che tutto sommato per me sono stati sei anni straordinari con tante vittorie e tante soddisfazioni per quello mi sembra giusto che devo salutare tutti tutti i tifosi milanisti tutta la gente comprende tutti che praticamente hanno qualcosa con Milan perché per me veramente sono stati sei anni molto belli e sicuramente non si possono dimenticare mai Quando sono arrivato se contiamo bene avevo 23 anni avevo un ragazzino sono venuto a fare un'esperienza in Italia e non mi immaginavo neanche magari che poteva durare 11 anni oggi ho 34 e sono stati 11 anni belli perché ho vissuto un altro paese un'altra cultura molto bella tanta gente sorridente iniziando aiutarmi da primo a ultimo giorno così veramente è stato Sono stati 11 anni belli belli sapevo che poi prima e poi finiva finiva questa carriera diciamo fuori però dico 11 anni molto belli non si può dire niente altro Secondo me il momento primo più bello è quando ho messo prima volta la maglia del Milan perché lì ho coronato il mio sogno giocare con una squadra più forte del mondo più prestigiosa E poi magari secondo sono tanti però la finale dell'Atene non si dimentica anche come la finale di Supercoppa che ho fatto gol No ma tutte le partite quando io ho messo la maglia del Milan mi sono sentito felice e non me lo dimentico Io ringrazio voi perché è stato veramente bello e devo ringraziare tutti i tifosi tutta la gente la dirigenza perché anche non devo dimenticare che adesso volevo finire così che 30 giugno ho finito il mio contratto però devo dire che la società mi ha detto che posso finire anche qui Il mio recupero con ginocchio oltre queste sono le cose che fa capire che società sono stato Ho finito magari mia avventura al Milan Italia 99% però come dicevi tu forse ancora dentro ho ancora voglia di finire carriera da qualche parte magari casa mia Però come dicevi bisogna vedere adesso ginocchio perché purtroppo alla fine carriera mi è successo questo intervento molto molto grave e tutti sappiamo che ci vogliono minimo sei mesi Adesso sto finendo secondo mese lavoro ogni giorno e spero che magari alla fine andrà tutto bene e io potrei ancora magari finire la carriera a campo vediamo dove Senza questo infortunio credi che avresti potuto dare molta più continuità a questa stagione? Ma secondo me sì anche se adesso parlare di forse non serve però io sono soprattutto contento come dicevi tu che io tutti sappiamo che quest'anno ho giocato pochissimo però fa parte del calcio Però io sono molto felice molto contento quando sono stato chiamato in causa da mister da compagni Ero pronto per quelle partite non facile come mi ricordo bene con Napoli Juve sai quando un giocatore è fuori sette otto mesi Farsi provare pronto davanti a 80.000 che sai che ti giochi il scudetto non è facile ma mi sono trovato pronto e per quello sono felicissimo perché ho dimostrato la mia professionalità Che sono stato sempre pronto anche come dicevi che non era facile e magari hai dato anche io piccolo 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 aiutino per alla fine vincere quello scudetto che che me lo sognavo da 11 anni Perché praticamente l'ho vinto alla fine è stato veramente alla fine quella giornata con Cali era stato forse il giorno più bello Il significato è praticamente finire realizzare un sogno perché un giocatore di Repubblica Ceca di giocare di un paese piccolo arrivare in Italia è un sogno non capita a tutti E io sono felice che l'ho coronato e sono durato 11 anni che secondo me sono veramente tanti Poi se devo dire sei anni in Milan una squadra così ho fatto veramente tante partite Normale ho sofferto un po' inizio poi alla fine però durante questi sei anni è stato meraviglioso Quando sono andato a Milan volevo sempre finirla con quella maglia rosso nera Poi è vero che arrivato quel giorno se non sbaglio era un gennaio di due mie dieci che praticamente ultimo giorno di mercato mi è stato proposto questo scambio con Inter Però io non ci pensavo due volte anche se come dicevi tu già stavo vivendo un periodo che non giocavo tanto Però alla fine volevo giocarmela qua anche se magari andando Inter avevo un contratto un anno in più Potevo solo da parte mia guadagnare quell'anno Inter Sai era primo alla fine quell'anno ho vinto tutto Però io sono felicissimo che sono rimasto e poi dimostrato anche quelle magari poche partite che la qualità avevo E sono felicissimo che ho finito con Scudetto con la maglia del Milan